Si faceva chiamare il re di Sant'Agostino, la piazza di Arezzo, tunisino, 21 anni, ben conosciuto dalle forze dell'ordine, per essere coinvolto in traffici di droga e aver rapinato coetanei e minorenni. Proprio il giorno della liberazione, il 25 aprile, è stato imbarcato dagli uomini della Polizia di Stato sul volo charter diretto a Tunisi per riportarlo nel suo paese. A definirsi, il re di Sant'Agostino era stato proprio lo stesso ventenne durante la trasmissione di Ritto e Rovescio di Rete 4 nel maggio 2023. Nello scorso mese di novembre, il ragazzo, la cui famiglia vive ad Arezzo, era stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già una prima volta era stato trasferito al centro per il rimpatrio di Bari, ma poi aveva fatto ritorno in provincia di Arezzo. Dopo un'intensa attività di indagine portata avanti dal personale delle volanti e della squadra mobile della questura di Arezzo insieme all'ufficio immigrazione, il ragazzo è stato nuovamente intercettato e accompagnato in un altro centro per poi prendere il volo per la Tunisia.